ciao ragazzi per ritrovati in questo nuovo video primo video del 2023 e partiamo con il bot ragazzi veramente perché come vedete alle mie spalle qui io sono sulla pagina web di chat gpt che è un prototipo diciamo di chatbot basato sull'intelligenza artificiale e sul machine learning si sto leggendo ragazzi sviluppato da open eyes specializzato nella conversazione con un utento umano in parole povere questa intelligenza artificiale ha delle enormi capacità di rispondere a quelle che sono praticamente infiniti argomenti o comunque una vasta una vasta gamma di argomenti infatti è stato testato da tantissimi create container mamma mia che inglese ragazzi da youtuber da tiktoker eccetera dove veramente si fanno delle domande incredibili fino alla creazione di codice righe di codice funzionanti siti web eccetera veramente ha un potere di applicazione incredibile e mi sono veramente incuriosito su questa chat gpt e ha un come dicevo mi sto ripetendo un potenziale enorme ora avevo già fatto il video eccetera dove io pensavo di mettermi in situazione e di chiedere una mano a chat gpt come se fosse un ingegnere di pista simulando proprio una situazione reale di condizioni in cui un pilota virtuale potrebbe trovarsi in pista e l'ho immaginato in questo modo sto correndo con un'auto categoria gt3 con motore anteriore trazione posteriore su un circuito misto cioè sia veloce che lento con la parte lenta molto tecnica ed ho problemi di sovrasterzo in entrata curva e sottosterzo in uscita di curva come posso rettificare questi comportamenti dell'auto? ovviamente riferito al setup e essendo specifico chat gpt mi risponde sono tutti pipponi che praticamente mi hanno preso quasi un quarto d'ora 20 minuti per vedere sul video che stavo editando mentre stavo facendo l'editing mi sono detto ma potenzialmente più entriamo nel dettaglio più siamo specifici e più chat gpt riesce a darci delle risposte dettagliate mentre stavo lavorando mi sono detto ma perché non gli chiedo proprio un setup di base almeno per questa tipologia di auto e su un circuito eccetera dando dei dettagli ragazzi guardate qua perché mi ero pure perso a dirgli quanto influiscono le molle il tow eccetera in modo tale che da farvi capire ragazzi potete quando non sapete qualcosa chiedergli gli spiega e così sapete dove intervenire bellissimo ovviamente questo lo reperite su internet però averlo con un solo interlocutore e in così in modo così rapido e dettagliato in cui prende tutte le informazioni presenti praticamente sul suo database e lo elabora con diciamo una una capacità di relazione così così dettagliata e potente cioè è una figata pazzesca perché setup tool tutte queste robe qua sì che vi fa l'analisi in base al comportamento hai provato questo dopo un po' è seccante qui invece molto molto intuitivo molto molto immediato e questa è la bellezza io alla fine gli ho detto vabbè sai che fai fai un setup ottimizzato per una categoria di auto gt3 sul simulatore di guida assetto corsa competizione per il circuito di monza come devo soleggiato ragazzi boom cioè vi da delle specifiche che sono sono basi d'accordo però parto da qualcosa ed è specifico perché proprio glielo ho chiesto cioè è boom c'è una cosa pazzesca e poi vi da delle spiegazioni e in più vi dice potete anche dire vabbè fai un setup ottimizzato questa volta per la qualifica e se andate a guardare sono cambiati tutti i valori e gli elementi che vengono a comporre il setup ora devo dire la verità sono un po' deluso perché chiedo poi per refactor 2 e non cambia praticamente nulla soltanto alcune cosette però rimane il fatto che lui vi dà una risposta studiando un setup di base sulla dinamica di un'auto gt3 infatti se andate poi a chiedere per la formula 1 cambia quasi totalmente la struttura del setup quindi giusto per farvi capire che ero partito con un concetto diciamo abbastanza largo con una filosofia di faccio il pilota e ho un interlocutore preparato come chat gtp che mi può rispondere con un ingegnere tipista e sono arrivato ad avere praticamente anche degli elementi di base su cui partire cioè con dei setup che adesso non li ho provati però questo tipo di informazione si paga ragazzi si paga perché c'è l'esperienza eccetera posso prendere tutti i coach che fanno le scuole cioè abbiamo una base pazzesca una base pazzesca sulla quale lavorare cioè non si parte da zero il setup di base cioè ti dico parti con questo e poi gli puoi dire perché la bellezza è questo da questo setup qui che stiamo vedendo questo lo prendo e dico questo è il mio setup lo possiamo fare eh guardate facciamo così dico dato questo setup andiamo giù lo copiamo ho problemi di consumo con me come lo risolvo vediamo che cosa ci dice ragazzi lo sto testando con voi adesso per risolvere i problemi di consumo delle gomme con il setup descritto potresti provare a seguire questi consigli regola la pressione degli pneumatici una pressione troppo bassa vi dice di aumentare le pressioni quindi posso andare a studiarmi insieme a lui e le sue conoscenze a dettagliare soltanto dandogli quattro informazioni quindi un vero proprio ingegnere di pista cioè avevo fatto tutto sto pippone poi basta chiedere le cose e dire guarda che con questo setup c'ho questo problema e vi dice regola l'altezza della vettura un'altezza troppo bassa può causare un eccessivo contatto delle gomme con l'asfalto mentre un'altezza troppo cioè è pazzesco guardate vi sta dando tutte le incredibile ora mi chiedo perché sono veramente curioso se dando altri elementi cioè dettagli non sto parlando ad esempio un po' di telemetria sta roba qua se non potrebbe fare un'analisi ma questo potremmo vederlo quindi ragazzi se mi fermo qua cioè ho rivoluzionato proprio il video sono contento perché comunque è una bella scoperta questa qua è comunque una chicca per voi per chi non ci aveva pensato di poter applicare chat GPT ma penso che molti di voi già conoscono chat GPT e hanno sicuramente pensato a questa cosa qua spero che questa chicca questo suggerimento questo studio insieme di chat GPT vi sia piaciuto se è il caso ragazzi lasciate un pollice in su non esitate a commentare ragazzi ditemi cosa ne pensate magari che prove possiamo fargli fare come possiamo sfruttare chat GPT sarà l'occasione per me per fare un altro video ovviamente iscrivetevi al canale tanto è gratuito attivate la campanellina per essere sempre notificati come al solito da Fabrizio è tutto un abbraccio ciao